Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Trovate il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Claudio Mandia Tanto tristezza, tanta tristezza. Dunque partiamo immediatamente con la ricostruzione del caso di Claudio, un ragazzo entusiasta, curioso, che vuole scoprire il mondo e che non ha paura di fare scelte coraggiose. Claudio ha tanti progetti e soprattutto ha le idee chiare. Desidera un giorno diventare il capo dell'azienda di famiglia che produce e vende pizze surgelate in tutto il mondo. Nel frattempo, siccome è ancora adolescente, frequenta il liceo scientifico Medi di Battipaglia, con un occhio sempre rivolto al futuro. Al suo fianco ha degli amici che gli vogliono tanto bene e una famiglia agiata che lo sostiene. È così che Claudio può cogliere l'opportunità di andare a studiare a New York. Certo, la sua mamma Elisabetta avrebbe voluto che Claudio avesse scelto un college più vicino, ma il ragazzo era troppo entusiasta di aver scoperto questo campus e lei non è riuscita a dirgli di no. New York era la città dei suoi sogni. Dunque, ad agosto 2020, dopo essersi diplomato al liceo scientifico, Claudio inizia questa nuova avventura. Il campus della EF Academy è pieno di coetanei provenienti da 75 paesi diversi e questa nuova situazione è dir poco elettrizzante per Claudio. Lui però è diligente, si impegna, studia tanto e passa il primo anno senza problemi. D'estate fa un viaggio in Messico, ospite di un amico conosciuto all'Academy. Poi torna a casa e incontra i suoi amici di Battipaglia. Claudio è al settimo cielo, racconta della sua esperienza agli amici e loro non possono che essere felici per lui. L'esperienza di Claudio è così soddisfacente che i genitori decidono di scrivere alla stessa Academy anche sua sorella Martina. Quindi, a fine agosto 2021, i due ragazzi partono insieme per gli Stati Uniti. A novembre i familiari li vanno a trovare in America e si rendono conto che Claudio ha davvero fatto amicizia con tutti. Gli studenti gli vogliono bene e gli insegnanti sono fieri di lui perché è un bravo ragazzo. Come detto, si impegna molto e ama studiare. Durante le vacanze di Natale, Claudio e la sorella tornano in Italia e passano qualche giorno in montagna, in compagnia della famiglia. Rientrano a Battipaglia il 30 dicembre e risultano tutti positivi al Covid, tranne il padre che dunque si trasferisce in albergo. Claudio, rimasto a casa, si occupa delle sorelle e soprattutto della madre che, ahimè, si aggrava. A causa di ciò, Claudio non può tornare al college il 4 gennaio, come da programma. Riesce a ripartire soltanto il 25 gennaio, anche se le lezioni sono già iniziate da 20 giorni. Claudio è teso perché ha in ritardo con il piano di studi. Aver perso 20 giorni di lezioni non è stata una cosa da poco e infatti quando si avvicinano gli esami il ragazzo è tormentato. Sa che non ha potuto prepararsi a dovere. Nonostante ciò non batte la fiacca, anzi ce la mette tutta per recuperare. Studia tanto, anche di notte, dorme poco e di conseguenza la mattina per un'intera settimana arriva in classe a lezione già iniziata. A causa dei suoi ritardi, Claudio viene messo in punizione. Nel fine settimana non può uscire dal campus. È il 6 febbraio e da casa arriva per lui una tragica notizia. Suo cugino ha perso la vita. Claudio, sconvolto, chiede aiuto alla psicologa della scuola. In queste condizioni, due giorni dopo, il ragazzo deve sostenere un compito di matematica fondamentale per conseguire il diploma A e B, che rappresenta la chiave di accesso alle università migliori di tutto il mondo. Il ragazzo, però, non è sufficientemente preparato. E, considerato anche il suo stato d'animo, non riesce a completare il compito e chiede aiuto a un compagno. Detto in parole povere, Claudio, in pratica, copia il compito di matematica. La professoressa, durante la correzione, si rende conto che Claudio ha copiato il compito da un compagno. Sono presenti gli stessi identici errori. Il personale dell'accademia organizza una specie di riunione in cui interroga Claudio, il quale ammette di aver copiato il compito. Il ragazzo, ve lo sottolineo, non fa lo spaccone, bensì si dimostra dispiaciuto, è molto deluso da se stesso. Chiede scusa e domanda se può rifare il compito. Claudio, quindi, non vuole assolutamente passare per una povera vittima, nonostante la vita l'abbia messo dinnanzi a diverse difficoltà negli ultimi mesi. La commissione si prende del tempo per decidere il da farsi. Claudio, intanto, chiama a casa e cerca di tranquillizzare i suoi genitori. Non vuole assolutamente allarmarli, ma si sa. Le mamme e i papà riescono a percepire quando i propri figli sono in difficoltà. Dietro alla maschera della positività, i genitori di Claudio intuiscono che in realtà quella situazione lo turba parecchio, che lo fa soffrire. Così scrivono una lettera alla scuola, chiedono scusa a loro volta, esprimono dispiacere per ciò che ha fatto il figlio e sottolineano che anche Claudio è desolato per l'accaduto. Infine, chiedono di valutare la sua situazione con saggezza e indulgenza, perché Claudio è un bravo studente e soprattutto perché in gioco c'è il suo futuro. Ma la commissione, al posto di essere clemente, prende una decisione molto dura. Due addetti della sorveglianza vanno a prendere Claudio alle 9.30 in classe. Gli dicono di recuperare le sue cose e di seguirli. Lo portano da un responsabile affinché gli venga comunicato il provvedimento scelto e gli dicono di chiamare suo padre. Mauro, il padre di Claudio, apprende così che, per suo figlio, è stata decisa l'espulsione dall'accademia. Mauro chiede di parlare con il direttore Vladimir Kuskovski. Quest'ultimo, in modo formale, dice a Mauro che non c'è niente da fare perché suo figlio ha violato le regole. Mauro, però, continua a ricercare la sua comprensione e gli chiede di ripensarci e di prendersi altre 24 ore prima di comunicargli la decisione finale. Ma la decisione del direttore non cambia. Claudio, per aver copiato a un compito in classe, viene espulso dalla scuola. In attesa che i genitori lo vadano a prendere, il ragazzo viene spostato in una stanza dove deve trattenersi completamente da solo, in un'ala isolata del campus. Esatto, sì. In pratica viene messo in isolamento. Durante una videochiamata, i genitori di Claudio si rendono conto che il figlio è confinato in una stanzetta settica e spoglia. I muri sono bianchi, il letto è bianco, il comodino è bianco altrettanto. Elisabetta e Mauro sono allarmati e chiedono a Claudio chiarimenti sulla situazione. Claudio spiega che l'hanno portato in questa stanza in attesa che faccia ritorno a casa. La porta non è chiusa a chiave, quindi il ragazzo potrebbe uscire, ma gli è stato detto di non provarci neanche, perché si sarebbe cacciato in un ulteriore guaio. È previsto che Claudio esca da quella stanza soltanto quando i suoi genitori saranno andati a prenderlo. Elisabetta e Mauro sono preoccupati. Il trattamento riservato al figlio ricorda loro una pratica utilizzata nei regimi autoritari chiamata tortura della stanza bianca. Si tratta di una tortura di natura psicologica che non lascia segni sul corpo, ma a causa della quale il prigioniero messo in isolamento in una stanza totalmente bianca e insonorizzata patisce privazioni sensoriali, perdita del senso di identità, allucinazioni e, se la permanenza è protratta nel tempo, pazzia. Poco dopo Elisabetta e Mauro vengono a sapere che quella pratica in effetti è diffusa. Il personale dell'accademy si giustifica dicendo che viene attuata per motivi di sicurezza, perché c'è il rischio che i ragazzi in punizione si agitino, quindi potrebbero creare problemi al resto degli studenti. Di fronte a una simile notizia, i genitori di Claudio, già arrabbiati per l'espulsione, adesso lo sono ancora di più per questa situazione. Per loro è assurdo che un ragazzo venga messo in isolamento. Quando Mauro riesce a parlare con un responsabile è martedì 15 febbraio. In Italia è pomeriggio, mentre a New York è mattina e Claudio si trova in isolamento già da 24 ore. Mauro, il padre di Claudio, vuole spiegazioni e visto che il direttore ormai si nega, ha chiamato la sorella di Claudio, Martina, e le ha chiesto di passare il telefono a un responsabile. Martina è entrata in un ufficio e ha passato suo padre a una donna. Mauro, parecchio arrabbiato, esclama «Chi si prende cura della salute mentale di mio figlio?» La donna, spaventata dal tono di voce di Mauro, passa il telefono a un responsabile che gli dice «Sono 25 anni che faccio questo mestiere, sono stato per 15 anni in queste tipologie di scuole svizzere». Il sottotesto è chiaro «Chi sei tu per venirmi a dire come fare il mio lavoro e come mi devo comportare?» Mauro calca la dose e risponde «State trattando mio figlio come un criminale». A questo punto la risposta che fornisce l'Academy è una bugia. Sostinguono che Claudio non sia assolutamente in isolamento, ma non è così. Oltretutto Elisabetta e Mauro scopriranno che Claudio era stato quasi dimenticato. Lui provava a contattare il personale dell'Accademia, ma nessuno gli rispondeva, non lo calcolavano più. Intanto Mauro, ancora preoccupato per il figlio, contatta la tutor incaricata di fare da tramite tra la scuola e la famiglia, quella che Claudio chiamava la psicologa della scuola. Mauro prega la donna di occuparsi di Claudio perché sa che il ragazzo non sta bene. La tutor cerca di rassicurarlo sostenendo il contrario, ma Mauro insiste dicendo «No, mio figlio non sta bene, non sta bene per niente, vi prego, occupatevi di lui». Per Claudio arriva il terzo giorno di isolamento e ormai sembra proprio che tutti lo abbiano dimenticato, tanto che non gli viene neanche portato da mangiare. Ora provate un attimo a mettervi nei panni di Claudio. Io l'ho fatto, almeno ci ho provato. Un ragazzo che non è a casa sua, ma si trova lontanissimo, senza i genitori accanto, viene isolato in una stanzetta fredda e gli viene proibito di uscire per qualsiasi motivo. Se immagino di vivere una situazione del genere, parlo per me, vengo assalita da un'ansia tremenda. Se poi a questa condizione aggiungiamo anche quella di patire la fame, è terribile. A questo punto a me sorge una domanda, una domanda sicuramente dura, ma a mio avviso lecita. Claudio si trovava in una scuola o in una prigione? Perché io credo che quello da lui subito sia un trattamento inaccettabile. Claudio si lamenta con gli amici del campus e spiega quello che sta succedendo. Gli amici avvertono il responsabile, il quale alle 15.30 gli fa consegnare una piccola porzione di bocconcini di pollo del McDonald's, un pasto scarno che lo lascia ancora affamato. Alle 18.30 Claudio riceve la visita dei compagni che sono stati autorizzati ad andarlo a salutare. L'incontro avviene alla presenza di due responsabili ed è stato concesso soltanto perché il giorno seguente Claudio avrebbe dovuto lasciare la scuola. Ma attenzione, Claudio è in condizioni allarmanti, ha dei segni sul collo che lasciano pensare a un tentativo di strangolamento. I compagni se ne accorgono, quindi gli si avvicinano e gli chiedono che cosa sia successo. Claudio, in risposta, dice di essere scivolato nella doccia. Come nella maggior parte dei casi di tentativi di suicidio, la prima azione non è mirata a togliersi la vita, ma si pone come una richiesta d'aiuto. Claudio racconta a tutti che non ce la fa più a stare in quella stanzetta. Come detto, l'incontro avviene alla presenza di due persone adulte, due supervisori. C'è da chiedersi, com'è possibile che non si siano allarmati? Persino i compagni si sono resi conto della situazione. Purtroppo i supervisori non fanno niente e Claudio rimane di nuovo da solo. Il ragazzo allora scrive ad altri compagni chiedendo che gli facciano visita perché non ce la fa più a sopportare la solitudine. Si sente abbandonato, dimenticato, messo in un angolo. Il giorno seguente i genitori di Claudio sarebbero arrivati negli Stati Uniti per portarlo via. Il viaggio, tra l'altro, era già stato programmato da tempo, perché Claudio avrebbe compiuto 18 anni, sabato 19 febbraio. Elisabetta e Mauro non hanno intenzione di accusare il figlio e di farlo sentire in colpa. Bensì vogliono festeggiare il suo compleanno e dedicare l'intera giornata a lui. Nella mattinata di giovedì 17 febbraio i genitori e le sorelle di Claudio si imbarcano mentre a New York è notte. Durante il volo il padre di Claudio avverte un dolore molto forte, una sensazione tremenda e inizia a piangere anche se non sa spiegarsi il motivo. Si chiude nel bagno dell'aereo e piange come un bambino. Mentre i parenti sono ancora in volo, Martina, la sorella di Claudio, cerca di continuare adattare il fratello al telefono, ma lui non risponde. La ragazza preoccupata consulta la psicologa della scuola. La psicologa prova a rassicurare Martina. Quella mattina proprio lei ha bussato alla porta di Claudio e non ha ricevuto risposta, ma è serena perché ipotizza che il ragazzo stia ancora dormendo. Martina non si tranquillizza. La psicologa le dice che al momento ha altri incontri, ma le promette che, appena questi saranno terminati, passerà di nuovo da Claudio per controllare che sia tutto a posto. Purtroppo quando la psicologa torna a bussare alla porta, Claudio non le risponde ancora. In realtà non le aveva risposto precedentemente perché già non poteva più farlo e non perché stesse dormendo. Solo ora però la psicologa scopre il motivo. All'interno di questo ambiente i genitori di Claudio riconoscono subito il professore di italiano del ragazzo. Mauro chiede immediatamente notizie sullo stato di salute mentale del figlio. Il professore piangendo risponde, Claudio non sta bene. Claudio è morto. Mauro a questo punto crolla a terra. Per i genitori e le sorelle di Claudio il mondo si ferma, il respiro si affanna. Non può essere successo davvero. Claudio non può essere morto. Non può. Invece la verità è che Claudio quella notte, in quella stanzetta tutta bianca, asettica, ha legato il lenzuolo al letto a castello e si è tolto la vita, impiccandosi. I genitori sono distrutti e vengono scortati dalla polizia fino alla IF Academy. Devono recuperare la sorella di Claudio, Martina, che nel frattempo è ancora all'oscuro di tutto. Ecco un altro aspetto doloroso della vicenda. Elisabetta e Mauro non hanno accesso al campus, bensì devono aspettare fuori. Un responsabile va a prendere Martina e la spinge verso i suoi genitori. Elisabetta si stranesce. Chiede se possono avere cinque minuti a disposizione per parlare con la figlia della tragedia che si è appena verificata. Ma il responsabile risponde che se ne devono andare non possono proprio trattenersi. Elisabetta chiede. Quindi, secondo voi, dove dovrei dirglielo? Il responsabile risponde con freddezza. Può dirglielo in macchina. Non potete entrare, perché altrimenti gli altri studenti vi vedono. Potete venire domani mattina, vi consegneremo tutti gli effetti personali sia di Claudio che di Martina. Ebbene, quando Elisabetta e Mauro si ripresentano la mattina successiva, l'Academy ha già cambiato idea. La consegna degli effetti personali di Claudio e Martina avviene nel parcheggio dell'obitorio del college. Il padre e la madre di Claudio a questo punto denunciano la IF Academy di New York. E chi, al suo interno, aveva la responsabilità di prendersi cura del figlio. Nove capi d'accusa, tra cui morte ingiusta procurata dall'istituto, detenzione abusiva, negligenza, maltrattamenti e abuso su minori. Claudio non era un ragazzo depresso, non era introverso o pessimista. Claudio era solare, gioioso, pieno di amici, aperto, empatico. Claudio si è ritrovato da solo in una situazione provocata da altri. Quegli altri che avevano la responsabilità della sua salute e del suo benessere. È possibile che Claudio stesse tentando di simulare un suicidio per richiamare l'attenzione. Quell'attenzione che gli è stata negata. Ma c'è una cosa che aggrava ancora di più la posizione dell'Academy. Un fatto simile era già avvenuto un anno prima. Un amico di Claudio era stato espulso e messo in isolamento e come lui aveva tentato di togliersi la vita. Pensate che quella volta non era finita in tragedia perché era stato proprio Claudio a dare l'allarme e a salvare l'amico. Dunque, la scuola era consapevole che i ragazzi in condizione di isolamento commettono atti di autolesionismo che possono essere molto pericolosi se non letali. Nonostante questo Claudio è stato isolato e non è stato neanche monitorato. Claudio è morto al campus a causa di comportamenti decisi e attuati dal personale che, a seconda del proprio ruolo, opera in ambito scolastico. È chiaro che i genitori vogliono sapere di chi sono queste responsabilità. Nella denuncia si fa notare che, secondo la legge dello Stato di New York, la pratica di isolamento è vietata sui minori perché è documentato che causa un alto rischio di suicidio. A maggior ragione non può essere applicata a degli studenti accusati di plagio, cioè di aver copiato un compito in classe. La scuola però ha sempre negato che Claudio fosse stato messo in isolamento. Chi l'ha visto? Il programma TV in onda su Rai 3 interviene e chiede spiegazioni al direttore dell'Academy che risponde attraverso l'ufficio stampa italiano di riferimento. Vi leggo di seguito il contenuto dell'email. Siamo tuttora profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Claudio Mandia e i nostri pensieri sono con la famiglia, i suoi amici e l'intera comunità scolastica in queste circostanze di inimmaginabile difficoltà. La sicurezza della nostra comunità scolastica è sempre la nostra massima priorità e curiamo costantemente con estrema serietà il benessere fisico e mentale dei nostri studenti. Ci preme quindi sottolineare come la documentazione presentata nella causa legale contenga numerose affermazioni inesatte, non basandosi sui fatti. In particolare Claudio era in attesa dell'arrivo della sua famiglia. Soggiornava in una stanza del dormitorio studentesco non chiusa a chiave e in nessun momento è stato messo in isolamento, senza interazioni sociali o accesso ad altre risorse o strutture della scuola. Siamo certi che l'organizzazione e le persone premurose con cui lavoriamo abbiano agito in ogni momento in modo appropriato. Abbiamo collaborato pienamente con l'ufficio del procuratore distrittuale della Contea di Westchester che nel corso degli ultimi otto mesi ha condotto un'indagine approfondita e siamo fiduciosi che in un futuro molto prossimo le indagini si concluderanno senza riscontri di illeciti da parte della scuola e del nostro personale dedicato. Siamo fiduciosi che il procedimento legale ci consentirà di fornire e dimostrare come i fatti siano realmente accaduti. Rinnovando la nostra vicinanza alla famiglia di Claudio ci riserviamo per il momento ulteriori commenti. Quindi la polizia distrittuale indaga e appura che Claudio è stato effettivamente trasferito in un'ala disabitata. C'era soltanto un altro ragazzo. Anche lui è spulso, confinato nel lato opposto del corridoio. Ambe due erano soli nella stanza. Era stato detto loro di non uscire senza permesso. Che i pasti sarebbero stati portati in camera visto che non era consentito loro di andare in caffetteria. Sono stati avvisati che non potevano ricevere visite e che il corridoio era video insorvegliato. L'autopsia ha appurato che Claudio è morto diverse ore prima del ritrovamento del corpo. I primi di novembre la procura distrettuale di Westchester conclude che non ci sono prove sufficienti per perseguire penalmente la IF Academy e i suoi responsabili. Questo però non ferma la causa dei genitori di Claudio contro la scuola. E il loro avvocato americano dichiara come i fatti dimostreranno al processo l'insensibile disprezzo dell'Academy per la sicurezza di Claudio ha direttamente causato la sua morte. Oltretutto, cosa mi avviso gravissima, la IF Academy è una scuola privata che richiede per la retta annuale degli studenti circa 60.000 dollari. Ma poi non si fa problemi a trascurarli riservando ad alcuni di loro un trattamento del genere. Inoltre, i genitori di Claudio non erano stati messi al corrente dall'Academy che l'isolamento era previsto come punizione. Ho una domanda che mi assilla. A quante famiglie sarà accaduta una cosa simile? Quanti genitori hanno pagato profumatamente un college per garantire un'eccellente preparazione accademica ai propri figli per poi venire a scoprire che si sono tolti la vita a causa dell'isolamento? Non capisco come la scuola possa negare l'evidenza quando tutti sanno che quella di mettere in isolamento gli studenti, da espellere, era una prassi già rodata. Non capisco come sia possibile che le autorità non abbiano trovato elementi sufficienti per incriminare questo istituto. Un ragazzo ritrovato morto. I suoi messaggi di sfogo mandati ai compagni perché il personale si era persino dimenticato di portargli da mangiare. L'inconsistenza del pasto che poi gli è stato consegnato senza che potesse esserne sazio. E ancora il fatto che durante una visita in presenza di due supervisori alcuni compagni e non il personale della scuola si sono resi conto che il ragazzo isolato aveva dei segni sul collo. Segni che non poteva essersi procurato cadendo nella doccia. Ci sono troppe cose che mi fanno arrabbiare di questo caso. Troppe cose che non riesco a spiegarmi. Troppe cose che mi lasciano turbata. Non si può iscrivere un figlio a una scuola prestigiosa per poi ricevere una notizia del genere. Soprattutto perché Claudio non aveva mai presentato turmamenti interiori o istinti suicidari. Quindi il suo gesto si può spiegare soltanto in un modo. Il personale della scuola ha agito in modo freddo senza pensare alla salute mentale di un giovane pieno di vitalità e voglia di imparare che certo aveva commesso un errore ma lo aveva anche ammesso subito. Inoltre il ragazzo aveva subito in un breve lasso di tempo diversi problemi e reali sconvolgimenti come a fronte della perdita del cugino. Ma soprattutto mi chiedo come possano i vertici dell'Academy sostenere che Claudio non si trovasse in uno stato di isolamento soltanto perché la porta era aperta dato che gli avevano ordinato di non uscire mai informandolo che il corridoio era video sorvegliato. Onestamente da questa storia sento emergere tanto dolore credo sia un dolore atroce quello che hanno provato le sorelle di Claudio e i suoi genitori. Non voglio immaginare come Martina abbia reagito alla notizia perché deve essere stato devastante. Ora i genitori di Claudio hanno una missione vogliono cambiare il sistema di questa scuola internazionale famosa e costosa. Inoltre ci sono altri ragazzi che si sono ritrovati in situazioni analoghe non soltanto in questa scuola ma anche in altre. Non è la prima volta che un'ingiustizia diventa il motore che riesce a cambiare le leggi dunque quello che Mauro ed Elisabetta stanno cercando di fare è diffondere consapevolezza perché ci sono tanti giovani italiani ed europei in generale che frequentano questo tipo di accademie. Nessuna scuola dovrebbe tacere sui protocolli punitivi che utilizza. Anzi questi protocolli devono essere comunicati alle famiglie così che possano decidere con più consapevolezza dove far studiare i propri figli. Vi dico chiaramente che non sono una mamma e forse non lo sarò mai perché non posso ma vi assicuro che non manderei mai i miei figli in una scuola come questa. È disumano che per aver copiato durante un compito in classe si subisca un trattamento del genere, santo cielo. Se la scuola vuole essere severa nelle punizioni praticare l'espulsione è più che sufficiente non serve mettere i ragazzi in isolamento dentro minuscole stanze completamente bianche. Questo cosa dovrebbe insegnare loro? Qual è lo scopo di una simile punizione? Io per quanto ci rifletta non riuscirei mai neanche a concepire un'idea del genere. Io ho finito di parlare in questo video che da scrivere per me è stato davvero molto doloroso. Perché? Perché io vedo ancora le scuole anche se non dovrei più vederle così insomma anche perché ormai il bullismo dilaga e tutte queste situazioni qua i professori spesso e volentieri se ne sbattono ma più serio io non riesco a credere che un ragazzo possa togliersi la vita in questo modo a causa del trattamento di una scuola a causa del trattamento riservato da una scuola. È davvero assurdo ed è ancora più assurdo che l'Academy non si prenda le proprie responsabilità. Chi ha messo Claudio in isolamento? Chi si è quasi dimenticato di sfamarlo? Chi se l'è praticamente dimenticato? Chi ha fatto sentire questo ragazzo inadeguato, solo, dimenticato? Una scuola? Stiamo parlando di un college ragazzi. Direi che è molto grave. Quindi sono molto curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni. Come al solito ci becchiamo con un commento qua sotto io vi leggo tutti e sono molto 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 curiosa di sapere quali sono le vostre idee proprio riguardo questo caso. Detto questo io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Grazie a tutti.